Ciao a tutti, eccoci qua per il video dei pronostici, giocate con me come sempre andiamo a vedere come siamo andati la settimana scorsa appunto, abbastanza male abbastanza male dopo l'handplane di serie A di due settimane fa questa settimana è andata peggio, però è anche vero che ci sono state tante sorprese quindi come sempre vi invito a giocare con me, massimo tre doppie in A e B e scusate il pedi che ho addosso del cane che oggi è stato il suo compleanno anzi ieri perché voi il video lo vedrete venerdì mattina quindi ieri e andiamo appunto a vedere come siamo andati la settimana scorsa ok e fatemi sapere anche voi come siamo andati appunto la settimana scorsa e poi appunto giocate con me nei pronostici è tutto gratis vediamo chi ne indovina di più allora ragazzi Salernitana Inter io avevo detto X ed è finita X presa questa tanta roba eh Lecce-Napoli X2-2 presa Milan-Empoli 1-X sbagliata questa era praticamente impossibile da prendere Udinese-Monza-X e ho preso l'X ottima, ottima anche questa X per caso non l'avete giocata Fiorentina-Spezia 1 ed è finita X e questa veramente non me la sarei mai aspettata Sandorio-Cremonese avevo detto 1 ha vinto la Cremonese quindi altro sbaglio Atalanta-Bologna avevo detto X2 ahimè l'ho presa perché è finita 2 Verona-Sassuolo avevo detto 2 è finita 1 quindi l'ho sbagliata Torino-Roma 1-X è finita 2 quindi l'ho sbagliata Lazio-Juve 1-2 ed è finita 1 e quindi l'ho presa quindi 5 prese in Serie A 5 si poteva fare di meglio eh però ci sono stati risultati abbastanza clamorosi Poi Benevento-Spal qui ragazzi la B è stata una strage penso sia una delle volte che sono andato peggio eh Benevento-Spal io avevo detto X ed è finita 2 sbagliata Su Tirol-Bari 1-X ed è finita 2 sbagliata Regina-Venezia gol ed è finita 1 sbagliata Perugia-Modena avevo detto 1 ed è finita 2 sbagliata Progeno-Neascoli 1-X ed è finita 1 meno male 1 l'abbiamo presa Comogeno avevo detto X2 ed è finita X quindi l'ho presa Cittadella-Palma avevo detto 2 ed è finita 2 quindi l'ho presa Brescia-Ternana avevo detto gol e invece è finita 1 ma 1-0 se non sbaglio Magari dico una boiata ma mi sembra sia finita 1-0 Pisa-Cagliari X2 ed è finita X quindi l'ho presa E Palermo-Cosenza gol ed è finita X-0-0 quindi proprio no Proprio no proprio no e quindi di queste qui diciamo ragazzi Ne ho prese ne ho prese solo 4 Andiamo con quelli di questa settimana mi raccomando Giocano già da oggi dalle 6 e mezza e poi dopo c'è la serie B anche stasera Quindi due partite oggi di serie A e una di serie B Partiamo dalla serie B Perché ho la schermata qui quindi partiamo dalla serie B Quindi Modena-Palma Modena-Palma derby emiliano Modena-Palma direi 2 Direi 2 Mi raccomando eh sempre massimo 3 doppie 1-2 oppure gol Ascoli sul Tirol direi 2 secco vado sul secco anche qui Pronto riscatto del sul Tirol Bari-Como bella Bari-Como Bari-Como 1 Bari-Como 1 Benevento-Regina direi 2 purtroppo per il Benevento Cosenza-Cittadella mi piace l'1 ma anche il gol Però vi dirò 1 Vi dirò 1 Genoa-Perugia 1 Anche qui Spal-Brescia Prima doppia Spal-Brescia Provo 1-X Provo 1-X anche se anche 1-2 non mi dispiaceva 1-X dai Venestia-Palermo seconda doppia X-2 X-2 Cagliari-Frosinone Terza doppia X-2 anche qui Ok? Tutte e tre di fila l'ho fatta le doppie Ternana-Pisa Ternana-Pisa Tosta-Ternana-Pisa Ternana-Pisa Gol Proviamo gol in Ternana-Pisa Così Mi piace Mi piace Scusate se non urlo tanto ma è tardi È notte Allora Cremonese-Empoli Andiamo con la Serie A Cremonese-Empoli Tosta-Cremonese-Empoli Tosta-Cremonese-Empoli Cremonese-Empoli Provo 1-1 Provo 1-1 Anche gol non mi dispiaceva Facciamo 1 Dai Facciamo 1 Spezia-Lassio Direi 2 Dai ragazzi Cioè 2 Dai Anche se lo spezia Le pareggia spesso e volentieri Ultimamente Bologna-Milan Partitona Di cui porterò il post partita Bologna-Milan Bologna-Milan Provo un 1-1-1-x Provo un 1-1-x Bologna-Milan Napoli-Verona 1 Dai Napoli-Verona 1 Intermonza Tosta-Cremonza Tosta-Cremonza Intermonza 1 Dai Proviamo un 1 Lecce-Sandoria avanti questa settimana ce ne sono di difficili Lecce-Sandoria X X che non servirebbe a nessuno X, proviamo X Torino-Salernitana altro X altro X per la Salernitana le pareggio tutte altra X Sassuolo-Juventus X2 seconda doppia Roma-Udinese 1 Fiorentina-Atalanta 1X gioco contro la Dea ma non perché sono masochista ma come col Bologna purtroppo temo che il pareggio sarebbe già oro che cola speriamo che arrivino stanchi dal viaggio in Polonia anche se ho già ieri vabbè vabbè per voi è ieri hanno fatto una passeggiata di salute anzi scusate se non ho portato il video dell'Europa Liga e della Conference ma oggi era il compleanno di Ramù e quindi ho fatto tardi non sono riuscito a vedere tutte le partite come volevo l'ho vista pezzettone non ho voluto fare un video sparato lì non vedendo esattamente tutto l'andamento della partita quindi vi chiedo scusa l'avevo promesso che lo portavo qui quindi Fiorentina-Atalanta io vedo un 1X sperando che almeno un pari lo strappiamo oppure che sbaglio clamorosamente e finisce bello 2 e viene una bella vittoria a Firenze sarebbe proprio la ciliegina allora il video con l'ospite arriverà solamente domenica temo o domenica o sabato sera vediamo vediamo perché se porto i due posticipi sia di Bologna-Milan scusate post partita sia di Bologna-Milan che di Napoli-Verona non credo di riuscire a portarvi l'ospite poi anche in serata perché poi vado a lavorare quindi probabilmente il video con l'ospite uscirà domenica mattina quindi segnatevi anche questa cosa qui ragazzi grazie di aver visto il video giocate con me nei commenti mi raccomando è tutto gratuito come lasciare un like come iscriversi al canale e come appunto commentare e giocare con me ci vediamo al prossimo video scusate il tono ma sono le due di notte quindi per cui non posso svegliare tutti quanti vi abbraccio il cuore grazie anche a tutti quelli che hanno fatto gli auguri alla Mou per il decimo compleanno al mio Bulldog dovevamo fare il video insieme ma ahimè quest'ora non è possibile quindi probabilmente ve lo porto nei prossimi giorni ciao ragazzi grazie di cuore alla prossima e benvenuti a tutti i nuovi iscritti ciao ciao ciao